Altre notizie in primo piano anche sui social, adesso è confermato, questa è una buona notizia, tutti quanti sviluppano gli anticorpi al virus, uno studio cinese che è stato pubblicato anche su Nature. Appena arriva il professor Morrone, ci facciamo dire se è vero e se ci possiamo fidare. Una ultima notizia che invece ci fa molto dispiacere dare, domani il primo maggio, la festa dei lavoratori, Notizie Italiane vi propone questo pezzo di Corriere.it, Caos, cassa integrazione, in Lombardia pagate soltanto 40 aziende e 63, ripeto, 63, dico 63 lavoratori. No, aspetta, ribadisci la notizia? Caos della cassa integrazione, in Lombardia pagate solo 40 aziende e 63 lavoratori. È una situazione che non riguarda soltanto la Lombardia perché è comune a tutto il paese, sulla cassa integrazione in deroga ci sono moltissimi problemi.